Due sconfitte non sono un dramma, lo stop in casa dell'Olimpia Regium era pronosticabile per la futsal San Giovannese, ma di fatto dopo il 4-7 in terra emiliana, ai ragazzi allenati da Mister Toria può venire un po' di paura per il campionato di Serie B, tornato quest'anno alla massima competitività dopo le stagioni da singola retrocessione. Lo scopo dell'annata rimane per gli azzurri quello di lasciarsi alle spalle 5 avversarie, ma se è ancora presto per individuarle, di certo non basteranno neppure i punti della scorsa stagione, dato che non esisteranno, come è accaduto lo scorso anno, gare di poco interesse e di classifica da febbraio in poi. Sabato prossimo è previsto il ritorno al tenso statico di Piazza Palermo. Ospite sarà la neopromossa Mattagnanese, che ha preso i primi punti proprio in questo fine settimana con il Bagnolo. Si tratta in assoluto del primo spareggio salvezza per una compagine che ancora dovrà fare a meno di feste e pisconti, con il secondo che potrebbe tornare convocabile a fine mese dopo la ricostruzione del crociato. A seguire il 22 ottobre la trasferta in quel di Genova, probabilmente dopo queste due gare si avrà un primo quadro delineato per la futsal.